Salve, questa volta parleremo del tempo profondo, cioè dalla scoperta che la Terra e anche l'Universo sono antichissimi, un'età di miliardi di anni, un abisso di tempo che è molto difficile concepire, che è stato compreso relativamente da poco, da tre o quattro secoli. Il tempo che capiamo bene è quello della nostra vita, che le statistiche ci dicono arrivi in media sugli 82-85 anni. Ma l'orizzonte temporale non è fatto solo dagli anni di vita, ma anche da quello del circolo familiare con i ricordi e le speranze che comprende le persone nato prima, genitori e nonni, ad esempio, e quelle che sono nate dopo, come i figli e poi i nipoti, in breve due generazioni prima di noi e due dopo. Prendiamo il mio caso personale. Mia nonna materna era nata nel 1896. La mia nipotina, che a pochi mesi supererà statisticamente il 2100. Il mio orizzonte temporale con il circolo familiare è di due secoli. Niente più breve di un lampo rispetto agli oltre 4 miliardi e mezzo di anni del nostro pianeta. Come ci si è accorti di questo abisso di tempo? Fino al 1600 si pensava, seguendo soprattutto testi sacri e religiosi, che la Terra fosse nata o meglio creata da pochi millenni. La cifra più citata era di 6.000 anni prima del presente. In questo breve periodo la Terra era rimasta uguale. Niente era cambiato rispetto all'inizio. Nessuno poteva immaginare che le montagne potessero sorgere e scomparire o i mari, oceani e continenti cambiare di posizione e di dimensioni o le specie animali e vegetali nascere ed estinguersi. Tutto fisso. Poi si è cominciato a capire che questa concezione statica e immutabile era molto sbagliata. Qualche sospetto che la Terra avesse un'età inconcepibile era venuta a diversi filosofi e matematici greci, come Eratostene, già vari secoli prima di Cristo. Poi intorno all'anno 1000 della nostra era, un ingegnere matematico cinese, Ken Shen Kuo, e il filosofo musulmano a Vicenna riproposero il tema dell'età della Terra. Anche Leonardo da Vinci studiò varie conchiglie fossili ritrovate nell'Appennino fra Parma e Piacenza e si chiese perché erano finite su una montagna. Le osservazioni di Shen Kuo di Avicenna e Leonardo non ebbero però molto seguito, al contrario di quello che accadde in Europa nella seconda metà del 1600. Uno dei protagonisti più importanti fu un medico danese noto con il nome latinizzato di Niccolò Stenone. Era il 1669. La curiosità aveva spinto Stenone a studiare bizzarre pietre conosciute come glosso pietre, strani minerali che al loro interno avevano un'inclusione di tutt'altro materiale a forma di lingua, cioè triangolare. Da qui appunto il nome di glossa, lingua in greco antico. Pietre note fin dall'antichità. Le aveva descritte forse anche Plinio. Per secoli e millenni queste erano state considerate pietre dai poteri magici. Stenone invece, che era un anatomista, aveva studiato vari animali fra i quali anche gli squali, riconobbe che queste inclusioni erano appunto denti di squalo. Oggi li chiamiamo fossili. Non solo. Poiché le glosso pietre venivano trovate sulla terraferma, ciò voleva dire che dove un tempo c'erano i mari si erano formate pianure e montagne. Era chiaro che eventi così giganteschi non potevano avvenire in poche migliaia di anni. Ecco che si cominciano a intravedere i baratri del tempo profondo. Ed emerge, grazie a queste osservazioni, un'idea che giocherà un ruolo importantissimo anche in biologia, ma che nasce insieme alla geologia. L'evoluzione. La terra, sotto ogni punto di vista, ha un pianeta dinamico in continua evoluzione. L'idea di evoluzione comunemente attribuita a Charles Darwin è in realtà precedente di almeno un secolo. Il contributo scientifico di Darwin, come vedremo, sarà un altro. Il libro di Stenone, dal titolo lunghissimo in latino, ma che riassumiamo in podromi, è solo la prima tappa in questo cammino di scoperta. Altri scienziati, come lo scozzese James Hutton nel 1700, anche lui medico diventato geologo, ipotizzò la continua trasformazione della superficie terrestre con l'erosione che distrugge montagne e rilievi, la sedimentazione dei detriti erosi nei fondali marini dove si creano nuove rocce che poi vengono risollevate e trasformate in nuove montagne e poi nuovamente rose in un ciclo senza fine. Hutton descrisse queste sue idee in un libro che viene considerato la chiave di volta della moderna geologia, la teoria della terra. Dopo di lui altri geologi, come George Lyon, altro scozzese, perfezionarono le metodologie per studiare le rocce e la loro storia e stabilì anche un primo calendario delle varie epoche della terra. Il tempo profondo della geologia si legò subito a quello della paleontologia, cioè allo studio dei resti fossili di animali vissuti nel tempo profondo e ormai scomparsi. Per molto tempo la paleontologia è stata più collegata alla geologia che alla biologia o alla zoologia, cioè più allo studio delle rocce che a quello degli organismi viventi. Già alla fine del 1700 il naturalista francese Georges Cuvier ipotizzò che le specie viventi andassero incontro a estinzioni, introducendo così anche per animali e pianti il concetto di evoluzione. Cuvier pensava che le estinzioni fossero causate da ricorrenti catastrofi naturali. Mentre un altro naturalista, Jean-Baptiste Lamarck, famoso per la teoria sbagliata della ereditarietà dei caratteri acquisiti durante la vita, ipotizzò più correttamente che l'evoluzione delle forme viventi avvenisse per la pressione dell'ambiente. Sia Cuvier che Lamarck scrissero le loro teorie all'inizio del 1800, quando Darwin non era ancora nato, era un bambino piccolissimo. Una volta arrivati alla certezza dell'evoluzione rimaneva però un interrogativo. Perché le specie si evolvono e si estinguono? Qual è il motore dell'evoluzione? Qui entra in scena la geniale intuizione di Darwin che nella sua opera del 1859, L'origine delle specie, indicò nella selezione naturale il potente motore dell'evoluzione. Darwin aveva notato che gli allevatori di cani, cavalli, ma anche di piante da fiore o commestibili, a ogni generazione facevano riprodurre solo quegli esemplari con le caratteristiche fisiche o di comportamento ritenute a loro giudizio migliori. In altre parole operavano una selezione artificiale. Lo stesso accadeva spontaneamente in natura. In questo caso non c'era nessun allevatore a scegliere le caratteristiche migliori, ma era l'ambiente stesso che premiava gli individui più adatti e quindi capaci di arrivare all'età adulta e di riprodursi. Una selezione che agisce nel tempo profondo, per milioni e milioni di anni, anzi per miliardi di anni, perché le prime tracce di vita batterica risalgono ad oltre tre miliardi e mezzo di anni fa. Poiché la Terra è un pianeta dinamico in continuo cambiamento, la vita deve in continuazione adattarsi a nuove condizioni, non solo ad un certo momento la vita stessa diventerà uno dei grandi motori del cambiamento degli ambienti terrestri. Il tempo profondo, anche se ormai compreso bene a livello scientifico, non è entrato, per così dire, nell'immaginario collettivo. Il nostro orizzonte rimane, come abbiamo detto, quello delle due generazioni prima e due dopo, cioè circa due secoli. Certo, ormai sappiamo che la Terra ha quattro miliardi e mezzo di anni e la vita tre miliardi e mezzo, ma lo diciamo con non curanza, come chiedere al salumiere due etti di prosciutto. Chi forse ci ha fatto capire e sentire cosa sia il tempo profondo e anche lo spazio profondo è un poeta, Giacomo Leopardi, con una poesia famosissima che molti di noi hanno studiato a scuola, l'infinito. Forse non tutti i critici sarebbero d'accordo con questa interpretazione. Molti considerano questa poesia come una riflessione sulla vicenda umana e la sua brevità. Ma Leopardi conosceva bene la scienza, aveva letto Galileo e Copernico e considerava l'astronomia la disciplina più importante. Aveva vissuto all'inizio del 1800, proprio mentre la dimensione del tempo profondo stava emergendo chiaramente grazie a geologia, paleontologia e ovviamente astronomia. Ve la proponiamo come conclusione di questa chiacchiereata sul tempo profondo nella lettura di un grande attore e regista scomparso ormai da un decennio. Arnoldo Foix. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, in terminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce che vo' comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar, me dolce, in questo mare.